Il sangue di chi ha ricevuto la terza dose di vaccino è talmente denso che una mia amica infermiera mi racconta di prelievi difficilissimi, sembra maionese nera. Questa è solo una delle tante bufale che circolano su internet, notizie non vere che puntano a screditare i vaccini, tanto che la Croce Rossa italiana ha dovuto smentire le falsità che stanno circolando nei gruppi Novax relative al fatto che gli ospedali starebbero buttando il sangue dei vaccinati e che il contagio da coronavirus avverrebbe anche tramite le trasfusioni. Questo non è assolutamente vero, non c'è nessun rischio relativo alla coagulazione delle sacche di sangue dei cittadini vaccinati, non si trasmette il coronavirus attraverso la donazione di sangue. Qui siamo nel centro donazione del bambino Gesù, la vita di molti piccoli pazienti dipende da questi donatori. In questo ospedale vengono eseguiti tutte le tipologie possibili di trapianti d'organo e quindi si tratta di interventi chirurgici per i quali avere la possibilità di una scorta di sangue per fare in modo che l'intervento possa essere eseguito è essenziale, è cruciale per la sopravvivenza stessa di piccoli pazienti. La donazione avviene in sicurezza solo su prenotazione per evitare assembramenti, i protocolli di sanificazione sono molto rigidi. La qualità delle procedure che vengono utilizzate fanno in modo che non ci sia assolutamente, entrando in ospedale, un rischio maggiore rispetto a quello della vita di tutti i giorni.